ciao a tutti oggi prepareremo la glassa di aceto balsamico il tempo di preparazione della ricetta è di circa 30 minuti gli ingredienti sono aceto balsamico zucchero di canna amido di mais e vino diamo il via la ricetta andiamo a inserire nel boccale il vino rosso l'amido di mais l'aceto balsamico e lo zucchero di canna e andiamo a cuocere per 25 minuti temperatura varoma velocità 3 senza il misurino e posizionando il cestello sopra per evitare gli schizzi la nostra glassa è pronta andiamola a trasferire in una bottiglietta di vetro e lasciamola raffreddare prima di chiudere il tappo una volta raffreddata la nostra grassa di aceto è possibile utilizzarla su tutti i tipi di alimenti dal dolce al salato si presta molto per le decorazioni per la sua densità e consistenza possiamo utilizzarla per andare a guarnire i formaggi o le insalate o addirittura anche la frutta è possibile conservarla anche in bottigliette di plastiche specifiche per le glasse con tappi dosatori glassa di aceto grazie e alla prossima ricetta grazie grazie grazie